Numeri incredibili per questa edizione per tutti è stato successo, sponsor anche, per noi anche come negozio che siamo organizzatori assieme all'SD siamo comunque in modo molto contenti. Cosa funziona di questa formula? Che cos'è che convince le persone? Non lo so, forse il fatto di essere snella, veloce, uno riesce dal lavoro, fa un piccolo in scaldamento, fa una garetta come fare un allenamento serale e poi si ferma, mangiata veloce, in compagnia e voilà. Quindi stare assieme, condividere qualcosa tutti assieme, divertente e sportivo. Inoltre, dal livello sportivo anche portato quest'anno ai bambini perché ci interviamo ai bambini, sono il nostro futuro, è giusto che loro imparino a capire cos'è lo sport, lo sport sono regole, l'allenamento, l'agrificio, ma che porta comunque sia a benessere ma anche qualcosa nella vita storia. State già pensando al prossimo anno o vi permette un po' di moda? Sì, sicuramente sì, abbiamo un sacco di richieste anche da parte di altri comuni, stiamo cercando di valutare chiaramente per corso, location, perché dobbiamo comunque salutare tanta gente, quindi mangiare qualchecchi, tante altre cose, oltre alla gara. Qualcosa di buona in pentola, ci dobbiamo lavorare, sui social qualcosa pubblicheremo di volta e volta, qualche picca, più avanti si saprà.